Allora, la crisi è a Simone Mergole, presidente del catenale, andiamo dietro a lui. Quando parte? Quando parte? Se parte. Carla? Forza, forza, rimettiti tutto, ci siamo... Poi non fatti due, è brutto. Poi faccio la faccola. Ma non è che mi sei fatto reggirare, no? Questa è l'obiettivo, questa è l'obiettivo. Dai, dai, tutti i denti, masca i denti, di più. Allora, arriviamo a chiudiamo a 來odificazione. Questa è l'obiettivo, e non arrivate al negozio, e non arrivate al negozio. Allora, passiamo anche a me. Questa è un'intero, io sommo prestore. Questa è la corsa, vediamo, non ruzie di più. Questa cosa, per favore... Questa è la corsa, potrebbe essere la corsa. Questa è la corsa, no? Grazie. Grazie. Grazie.